Ciao! Allora ragazzi, vorrei subito rassicurarvi dicendovi che non smetterò di fare video, figuratevi, a me piace molto farlo e quindi no. Quello che però volevo dirvi è che a me piacerebbe portare diversi format su questo canale, però visto che ormai il canale ha preso una determinata piega, è difficile poter portare altri contenuti facendo in modo che questi vengano seguiti parecchio come quelli che vanno di più. Non so cosa ho detto. Quello che volevo dirvi innanzitutto è grazie a tutti quanti per avermi supportato fino a qui perché non pensavo che questo canale sarebbe potuto arrivare fino a qua. La seconda cosa che invece volevo dirvi è che mi piacerebbe portare diversi format che però non so quanto ci starebbero su questo canale, quindi quello che ho deciso di fare è semplicemente di spostarmi su Twitch. Insomma, se avete piacere di avere un contatto un po' più diretto e in tempo reale con me, vi consiglio di seguirmi dall'altra parte. Voi potrete interagire con me, a 100 follower iniziano la mia prima live, sarà su un format che mi sono sognato guardando le live del gabrone. Sì, seguo il gabrone. Non lo so perché. Quindi niente, cosa aspettate? Seguitemi anche lì. Detto questo, penso di potervi salutare. Ciao!